L'idea è fondamentale. Creare su tre dimensioni, senza regole. Essere creativi vuol dire saper vedere la creatività. La creatività è sempre sovversiva. Vuol dire la moltiplicazione delle possibilità, invece della separazione delle possibilità. Vogliamo stimolare una nuova attenzione sui temi dell'innovazione, della creatività, della ricerca. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!